Ancona, Torino, Ancona, a Charlie 8, Ancona, Torino, Ancona, un attimo solo, Raul buongiorno, 659 in Papparobio 057, internazionale India 13020 QSL. QSL 657, 57 a Procida, grazie, buona domenica. Grazie per il rapporto reale da Procida 57 QSL, grazie, 73 a QRZ dall'Italia, Quebec 4, Florida Eco Portatile, della referenza Castelli Italiani, Papparobio 057, QRZ. 29 Delta Vittoria Zelanda. Italia Tango 9, Delta Victor Zul, Roberto, buongiorno, 659 in Papparobio 057 per l'internazionale India 13020 QSL. Grazie per l'interno di Papparobio 057, ciao, buona domenica. Ciao, 73 QRZ. CQ CQ, diploma Castelli Italiani, chiama Italia, Quebec 4, Florida Eco Portatile, Papparadio 057. La stazione spagnola, la stazione spagnola con 5 nel call, 5 nel call, your signal in 4, a week, please again. Sorry, impossible to copy you, 2 week signal, 2 week signal, I don't copy you. Sorry, next time, bye bye, 73. CQ CQ, diploma Castelli Italiani, chiama Italia...